Buongiorno a tutti, l'altro punto importante del nostro programma politico è la riduzione dei tributi comunali. Premettiamo che negli ultimi 4 anni i tributi comunali sono aumentati, quindi c'è stato effettivamente questo aumento di tasse, nonostante qualcuno dice che questo aumento di tasse non c'è stato, c'è stato, tanto è vero che siamo di fronte a un incremento di tutte le imposte di ben 3 milioni e mezzo. Il punto principale però non è questo, il punto principale è che nonostante questo incremento di 3 milioni e mezzo che il Comune ha avuto, che l'amministrazione comunale uscente ha avuto a disposizione, noi siamo di fronte a una carenza immane di servizi, una carenza di manutenzione e di pulizia delle strade. Questo è quanto riguarda il passato, quello che vogliamo parlare oggi è del futuro e quindi dell'obiettivo principale del nostro programma politico-amministrativo, ossia la riduzione delle tasse. Noi proponiamo e possiamo e dobbiamo fare, dobbiamo ridurre la taria che sarebbe la tasse sui rifiuti almeno del 30%, dobbiamo ridurre l'addizionale IRPEF che attualmente è dello 0,40% attraverso una graduazione, la ridurremo attraverso una graduazione prevedendo uno 0,40% per i redditi superiori a 30 mila euro, dello 0,20 quindi della metà per i redditi inferiori a 30 mila euro e udite udite l'esenzione totale per i pensionati, per i lavoratori dipendenti stagionali che sono stati penalizzati dallo Stato per la Naspi e nonché per i piccoli artigiani e commercianti. Comunque in generale per tutti i redditi bassi. Per quanto riguarda l'IMU e la Tasi, che poi è stata racchiusa in un'unica imposta che si chiama IUC, Imposta Unica Comunale, noi intendiamo prevedere una esenzione totale per quanto riguarda la Tasi, non solo per l'abitazione principale ma anche per chi concede la propria abitazione, incomodato d'uso ai figli, ai genitori e a chi concede la propria abitazione a residenti, questo per incentivare e risolvere in parte il problema abitativo. La copertura di queste riduzioni, è chiaro che dobbiamo parlare anche di come raggiungere questo obiettivo, la copertura di queste riduzioni noi la otteniamo attraverso la lotta all'evasione del contributo di sbarco, perché ce n'è, dati alla mano lo possiamo dimostrare, e soprattutto con la lotta agli sprechi. La cosa molto importante è che il nostro programma amministrativo ha diversi progetti, tutti sono garantiti dalla copertura finanziaria e sono garantiti da chi ha competenze in bilancio da diversi anni, e soprattutto sono garantiti dal fatto che il Comune di Capri incassa ben 26 milioni di euro e oltretutto possiede un avanzo di amministrazione disponibile, ossia che si può spendere, di oltre 16 milioni. Se queste non sono garanzie per garantire i nostri progetti, ditemi quali altre garanzie possiamo offrire. In particolare noi ci terremo a realizzare due progetti con la copertura di cui ho detto, e ossia la realizzazione del grande centro ambulatoriale comunale, dove adesso c'è l'ex scuola alberghiera, dove è previsto anche finalmente la cosiddetta piscina coperta, che non deve essere una piscina olimpionica, ma una piscina terapeutica, e soprattutto garantirà l'apertura del monumento più importante, forse anche mondiale, che è Via Krupp. Grazie.